controllate l'equipaggiamento gli aerei si stanno preparando allo schieramento nemico in discesa nell'area operativa il muro mi sto soffi a te no attraverso il muro ma fatto quello come cazzo ha fatto scusa no ma l'ho messo ho messo nemico in discesa nell'area operativa ma do cazzo sta sto stronzo non lo vedo più oddio ah eccolo non capisco lo mando cazzo scherzo stronzo ma puttane come la vedi? bene come in vado di qua vado di qua fate finta di niente vado di niente indica un punto di lancio conduci tu il team no la taglia la scivete ne guarda proprio non vogliono andiamo a princeton invece serve a qualcuno no ormai troppo tardi andiamo a promade andiamo a promade a promade promenade promenade seguiamo la dove c'è la conquista un uomo davanti guarda qualcuno ah la tua un uomo davanti un uomo davanti non piace un uomo davanti il mondo sotto di noi c'è gente che già cammina con la macchina se sta uno che sta andando con la macchina lo stiamo andando noi calcola ma lei ce n'è uno dietro? no a me mi tocca fermarmi qua non c'è avvio e c'è sta proprio quello con la macchina l'obiettivo principale è farli tutti fuori vado alla banca io non stavamo troppo separati c'era uno lì con la macchina è andato via quello con la macchina la scatola rossa ma cazzo hai visto la rossa che arancione è arancione per capi di rossa l'obiettivo capito bravista è un po' d'artonico mo le mio attenzione un team nemico vi insegue ecco 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 mi stai senti pari vuoi ciocchino? no no farlo per andare a valentino dove sto? vuoi? nemico in volo vado di qua no io sono trovato un altro fa vuoi? vuoi? che c'è chi non è? vuoi? uno dei che merda buono dove sto? fingamelo fucile di precisione qui vado sopra però che puoi affalto a casa vengo da voi eh per far fare con quegli scudi se c'è la fantex e io qui sono sfagallo eeeh avvialo cassa di scorte marcata recuperiamola un'altra cazzo arancione va bene? da doffare no? ah è stata l'altra parte ma stavo da là io fino a mo qui si bella che non c'è è stata una cassa c'è stata qui e l'altra stanza ah perché abbiamo attivato i sciagalli contratto aggiornato nuovo obiettivo identificato prendilo però ho pure una cassa di munizioni allora no eeeh ma è troppo ignorate quello che ho detto serve a qualcuno? come la prende sto sciagallo dai no unico infatti no no eccomi tranquilli che nuova taglio dentro contratto aggiornato nuovo obiettivo identificato come la cassa torna è un po' dove arriva eeeh va bene è arrivato è un po' più da voi ok siamo nella zona sicura ah io ancora ho messo messo i black eh io non potrei che volete zero ancora un po' più fiotti da là oh c'è la 100 ora tocca una sul tetto sali poi per salire quella più stupra come si faceva qua la sali eeeh stanno le scale qua no non è qua c'è un trofi potrebbero stare scale da qualche parte avete evitato l'inseguimento ottimo lavoro buono hai trovato le scale quanti? no che cazzo ho sento pure le casse non ne vedo stanno sopra a loro ecco provate le scale guarda che l'ho trovato pure io si sto affidato eh no sto perché sto ancora più su no qui si scende no trovate 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 eeeh niente faccio 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 contratto completato tutte le casse di scorte trovate che ho lasciato una mitra hm cosa? si si la ricognizione si è buona era mia fatura ci potrebbe pure non cominciare uno shop che abbiamo per farsi il lancio di equipaggiamento beh io ho 10.000 quindi si eh ecco sento anche una cassa in realtà dove andiamo? a ricognizione? si la sta andando io ci sta già raggiungete il punto indicato e mettete in sicurezza l'aria si eh eh che bello vabbè che sta maffico don town ci volevi andare? si infatti capi quante vedo colore oh aspetta che ci siamo incastrati eh eccoci va ma io sto sul tetto c'è la luce lo sai? sul tetto non è che la luce eh che cosa aspetto siamo pure un pozzio dei soldi no 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 ok la web dalla scuola un'altra parte di chiudere sto qua non avete un lancio di equipaggiamento in arrivo un buono qualicino attraverso che non si può morire per fare la equipaggiamento chi era boh gas in arrivo spostamento della zona sicura qui ci sono corazze sento rumore fuori ecco l'appassato è passato adesso si 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 quando gli attendete le cose falli se lo fia davanti io a terra manca l'ultimo fai da da là no metta con gli obiettivi non sentiamo che già sta in terra fatti sei a posto via libera non avevo visto quello davanti proprio non l'avevo visto prendete le pacchette di tutto quello che ci potete via che ci sta buono si vede l'ingennario buono si vede a mezza strada sta arrivando un elicottero e via aspetta voglio dire che fa una cosa preso un altro lanciato andiamo 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 qua qui c'è un venditore dove lo shop ok qui c'è sta una cazza però c'è naturalmente tanti disordi che sinceramente lo cazzo sta sto shop sto dentro ragazza ecco l'ho preso io ho preso io ho preso io ho preso io ho preso la maschera io ho preso pure la maschera allora pittato l'animazione io prendo ah e maschera figasso se dovete rifornirvi e piacere se ce l'avete ancora dei soldi lo havo prendete pure lo prendo io no prendete uno per uno è meglio se ce l'avete uno per uno è meglio io perché ho preso i soldi si evершito guardi, la maschera è presa valenti esoro valentino valenti esoro valenti esofalo valenti esofalo valenti in aggreg84 va vaya a posto ci abbiamo tutti guardi tutti quanti così dobbiamo stare allora palmi fammi un colo la gente c'è stardi c'è il cecchino saputa tutto del costo dici e c'è così si si trova se chiuso saputa dici lo stadio indicatormo in movlette la qui l'ho visto dalla mappa grande io consiglierei di andare da stadio se gliela facciamo senza farse sparata quello questa fase cecchina da qualcuno alle spalle e andiamo su stadio perché toccare di rimanere con il muro dietro la macchina dietro occhio è arrivato al carrello quindi via veloci mi sono già arrivato ok allora tocca arrivare tipo qua che tanto si chiede da ste parti perciò io consiglio di potevano di acqua mi sposto qui e poi si no si chiude da ste parti qua eh si no a casa a casa staffa non è che tu staffa tutto il progetto e andiamo dritti dritti a morire ah te ne manca il chiteratore in azione a chi? eh perchè non l'hai detto? hai a te davano i soldi c'è una mitaglietta leggendaria mitagliettrice leggera qui c'è lo zainetto con le pelle piastre qui c'è un cecchino se serve qui c'è un fucile di precisione io ho preso il sistema trofi io ho sempre una cassetta dei munici buono io ho preso il sistema trofi eh no il drone lascia perdere ci fanno poco facciamo l'uav trovo la mosse trovi sei pure il riparo mobile pure buono in certi casi placca per chi mi deve serve e ci sono corazze gas in arrivo nuova zona sicura contrassegnata eh lo so il problema è che in modo che arriva là c'è sta quello sul tetto con me mi mette in ansia quello che fa le spalle vedi che hai detto che sta quella da per parte a noi beh ce l'hai ricordata con l'altra la dell'altra la dell'altra la dell'altra la dell'altra ma se tagliamo dritti qua taglia dritti qua taglia dritti qua qui c'è un venditore rifornitevi pure dai 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 sul monte rosso UAB nemico in volo vieni 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 attiva la testa se la troviamo per strada bene sennò si ui avanti no mi ha sdraiato cazzo ma per dio tutti di fronte sono tutti e tre di fronte mi sono trovati voi ho legato eh io non mi è stato nel gulag ed ero non 3-1 l'ho traccato all'alti mi hanno fatto eccolo io ti ha immaginato eh io sto facendo aspettatemi lì vedo se riesca a rientrare che mi ripi la roba mia e ci qui e ti rimaniamo in prima linea se perdi se quattro guarda ok mi sa fare tutte e tre avanti ma no ma come hai fatto cazzo vediamo alla base ha scolto il no no ma come hai fatto non è ancora finita il tuo team può pagare per farli uscire e tra noi e tra noi vedete quali il caello nel bunker proprio porco dio sento la mia forza si si vai aspetta che rivengo vengo lì non 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 so dietro la corona se sarebbe il bunker tende si arriva c'è una macchina pure c'è amico in discesa nell'area operativa si aspettate fatevi mettere i piazzi no più che altro non so il piazzi che fai volendo a quanto arriviamo se mettete i soldi insieme prendiamo un lancio equipaggiamento si prende la roba mia tanto invece vede tutto vieni dietro vieni dietro vieni dietro vieni dietro io vedo se trovo ancora più carte corazze perchè non ho le corazze il lancio equipaggiamento così mi prendo il perché mio eh mancano gli ultimi ah ce l'ho io gli ultimi 600 mancano i due guardi non lo so però ero poi entrato ok no devi pagare a prenderlo lancio d'equipaggiamento alleato in arrivo ok datemi una placca una sua vieni guardi ok no le sorghi serve a qualcuno voi non dovete prendere un secondo equipaggiamento no no perché si aspetta ormai vedere dove si chiude no andiamo a prendersi ricognizione no perché tanto si chiude da altre parti sicuramente qui in mezzo ci stanno il movimento dove il movimento il movimento radar personale alleato in volo quindi mandano le truone va bravo c'è un via sta avvimento nuova zona sicura individuata lo vedi punto mio movimento e guarda poi guarda favore che invece potrebbe essere sicure di da noi qua ok perciò ne dovremmo essere uno dell'ultimo migliorciare che entrate dentro entra dentro è stappato il drone vabbè quante lacche abbiamo tutto 5 io no no una raccogliela una sola sono così e le buti sprechi raccoglila ci avviano fanno avronato fiaviano no c'è qualcuno qua atto fallito ritirata eccela stanno fuori entra in famuncina uno arriva l'altro oh c4 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 via via a terra buono tutto tutto la piazza sarà colato ecco l'entra si mettono a mettergli altri scusione confermata che ti ha detto ti ha rientrato? però ci ha lasciato bella roba prendo pure il peccino loro prendo volando per caso bene il sensore non mi dice niente no nemmeno me no non credo no no perché se c'ha il sensore non lo vedi a meno che non lo mandiamo tutti e tre insieme però non ci conviene se lo mandiamo tutti e tre insieme chiama quello che li prende tutti qui c'ha pure le pappe aspetta sta ancora là aspetta a sinistra dietro dove c'è stanno quelle cazzo di scalette quindi non è quello che sto sparando adesso vero? no così te fanno gas in arrivo zona sicura riposizionata aspetta aspetta un attimo guarda che starci 4 soldato nemico in arrivo la tuta gas a una carica messa a terra ok avvio avvio uno l'ha atterrato uno l'ha atterrato l'hai atterrato? si è quello che ha lanciato per fare la tuta da sopra di dove stava ci sta uno ecco levate la gratta sta là ne ho letto qui sclaccato sclaccato lo piate lo piate lo piate fatto immanentato via a posto quello che c'è là non c'era niente quello a terra no l'ho pezzo da lui l'ho pezzo da lui gas in avvicinamento ok ah c'è la maschera bonus ho pure la maschera i soldi aspetta me ne compro le maschere me ne compro tanto ormai eh no ti è 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 che sta a vedere che sta diventando un po movimentata non vorrei che adesso si è rimando dietro guarda guarda no e si aspetta me le ricompro altre no alzi la maschera antica ci abbiamo tutti la maschera antica vero si si mettiamose dentro aspettiamo che arriva il gas e usciamo insieme al gas di quanti ne mancano 24 dai non sali davanti ma appena arriva il gas è arrivato il gas via via a fila a fila a fila occhio a sinistra a destra ok ok c'è un altro dove? a mappa l'ho visto ho visto a destra a destra sempre io mi sono messo a spalla una roccia te l'hai visto? io spunto sopra io spunto sopra io spunto sopra io spunto sopra dove? 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 mi hanno colpito è quello è quello morto? si però mi ha dato tutto il team è il pc sceglie si si bersaglio qui o c'è il gas 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 dobbiamo la maschera noi ci stanno gli allardi ci stanno aspettando a filo 6 lo fanno aspettando io finisco quello dei platti a terra no no pure io forco di ho attaccato la puro io fallo 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 no no dietro dietro adesso non lo fai no 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 dai ragazza tieni oh dio tieni tolgo l'acqua qui tieni tutto no che cazzo li coppe in terra cazzo E' fatto bene, è fatto bene, era alla fine, stavamo un po' di aperti, c'eravamo sia a destra, che a sinistra, sopra, sotto, c'eravamo a... dove se giravamo, giravamo male, se lo davamo ingosta a niente. Sì, alla fine stavamo tutti lì. Se lo davamo ingosta a niente. Siamo arrivati? Scusati. Oh ma che fallo, sempre un filo. Sì, sempre lì arrivi. Sì, sì. 80.000, lo sai che è? 80.000 team tutti insieme, è sempre così, ti trovi sempre in mezzo a tutti i team. Vabbè, ma alla fine che forza.